Riposto dalla rivincita all'assessore al bilancio di Giarre Salvo Vitale, che giovedì scorso in Consiglio Comunale si era dovuto scusare con i consiglieri per la convocazione a rotta di collo del civico consesso per la delibera riguardante la possibilità di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. A riposto invece il civico consesso per trattare lo stesso argomento è convocato in seduta straordinaria e urgente per domani mattina, domenica, alle ore 10.30, il giorno prima della scadenza per l'invio dei documenti, che è lunedì 15 gennaio, e gli atti riguardanti l'argomento sono stati depositati oggi, sabato. E una seduta convocata in un giorno festivo di norma comporta un aggravio di costi per il pagamento degli straordinari e dei festivi agli impiegati che devono essere presenti per lo svolgimento della stessa. A Giarre per la convocazione del Consiglio di giovedì, quattro giorni prima della scadenza, su un argomento addetta di alcuni consiglieri noto da tempo, non erano mancate polemiche. Fabio Di Maria aveva protestato, dentro la maggioranza Giuseppe Leotta aveva evidenziato la mancata convocazione della Commissione Bilancio per approfondire l'argomento e il presidente Francesco Cardillo ha dovuto precisare di non aver avuto il tempo per convocare la Commissione e ha quindi chiesto all'amministrazione un congruo margine quando si dovrà decidere in via definitiva la rimodulazione o meno del piano. Vitale nel giustificare il ritardo della convocazione aveva spiegato che la norma che permette ai comuni di rimodulare il piano di riequilibrio era stata pubblicata a fine dicembre sotto le feste e lui era stato fuori sede alcuni giorni e per questo non si era potuto convocare prima il Consiglio Comunale. Ma i consiglieri a Giarre non perdonano, adesso almeno a Vitale resta questa magra consolazione.